Raccontaci una storia con Fedez, deserto e panda alieno. Un panda alieno. Cosa è il panda alieno? Panda alieno. Ah, panda alieno. Fedez, deserto e panda alieno. Io ero in deserto in Iran. Ho visto Fedez che stava giocando in basketbol con panda alieno. Posto che consigliereste per un weekend distruttivo? Una miniera. Pizza o sushi? Sushi. Sushi. Pizza. Pi due. Strumento futuristico con cui comporre un pezzo, motosega o doserba? Quell'altro cos'è? Quell'altro cos'è? Motosega. Arribardi. Motosega? Sì, certo. Quello sto cercando. Sì, motosega fa dei bassi pazzeschi. Infite con Merily Man, sono con Post Malone. Chi? Post Malone. Post Malone. No. Merily Man. Perché? Il dono di natura che vorreste avere? Volare. Io parlo con i cani. Solo cani? Ok. Grazie. Non lo so. Di vero per sempre. Ah, sì. Di vero per sempre. Ah, sì. Non voglio morire. Sì. Grazie. Il mondo è attaccato da zombie. Scegliete l'arma giusta e una strategia per scappare. Sì. Io faccio finire che sono zombie. Quindi cammino con loro e non capisco chi sono. Io forse ho un lanciafuoco. Perché lo vedo nei film e mi sembra molto divertente. Già che ci siamo. Puoi nascondere dietro di me. Sì. Sì, anche lei. Sì. E' come. E' come? Va bene. E' come. Sì, sì.